Crede ancora nella giustizia, ma teme una vendetta. I magistrati hanno scarcerato due dei suoi carnefici. Ora la 24enne, vittima di uno stupro nell'ascensore della circunvesuviana Torre del Greco, ha paura. Quel giorno sono caduta in una trappola. Più ancora della violenza che ho subito, mi ha fatto male quello che è successo dopo. Quando ti accorgi che non c'è giustizia, che non hai tutela, allora il dolore diventa insopportabile, rivela la ragazza in un'intervista a Repubblica. Ora che i giudici hanno scarcerato due degli indagati, lei teme che possano vendicarsi. Non abitano lontano, potrebbe incrociarli per strada. Per il terzo è atteso nel corso della prossima settimana il pronunciamento del riesame. Nonostante lo scoraggiamento, non esita però a lanciare l'appello alle altre donne vittime di violenza. Non abbiate paura di denunciare. Sul caso è intervenuta anche la leader dei radicali, Emma Bonino, a Napoli, ospite di un'iniziativa proprio per le donne. Gli uomini escano fuori, si facciano sentire, agiscano, ha esortato la Bonino. Non conosco il dossier e non ho un impeto giustizialista, ricorda la Bonino. Tutti hanno diritto alla difesa, però credo che questa storia sia parte di una storia più grande ed è molto preoccupante, dobbiamo stare attenti. La Bonino è tornata anche sulla legge per il revenge porn, che non è ancora reato. E proprio da Napoli è partita una clamorosa querela nei confronti del proprietario di Facebook, Mark Zuckerberg, presentata dall'avvocato di una donna nel processo contro un 51enne di Pompei. L'uomo, dopo essere stato lasciato, non aveva accettato la fine della relazione e per vendetta ha aperto un falso profilo Facebook, su cui ha pubblicato tutte le foto intime della ex compagna.